Buongiorno signori e buona domenica. Io sono Mr. Lull e da lunedì si paga nessuna proroga. Esatto, da domani 20 luglio parte un vero e proprio tour de force di scadenze fiscali che attendono alla cassa tanti contribuenti italiani, esercenti, imprese, professionisti, forfettari, insomma 4 milioni e mezzo di partite IVA. Un ingorgo fiscale venutosi a creare in virtù della proroga concessa sui versamenti causa pandemia dal 30 giugno scorso al 20 luglio. Nessuna proroga nemmeno per i saldi 2019 a conti 2020 su dichiarazione dei redditi IRPF e IRAP se dovuta. In gioco ci sono infatti 8.4 miliardi di euro irrinunciabili in un momento come questo per le casse boccheggianti dello Stato. I commercialisti minacciano sciopero, alcuni partiti invitano a addirittura alla disobbedienza fiscale, tanti contribuenti, volenti o nolenti, preferiranno ritardare i versamenti e vedersi applicare le sanzioni. Vedremo cosa succederà da domani, ma detto questo io come al solito vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lull.